Torniamo adesso a parlare di scuola con un istituto d'eccellenza, è il liceo scientifico Mazzone di Rocella Ionica, premiato dalla Fondazione Agnelli per la qualità dell'offerta formativa. Antonio Condò. Anche una scuola della Loclite tra i migliori istituti superiori italiani, nella guida eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli, un posto di rilievo infatti toccato al liceo scientifico Pietro Mazzone di Rocella Ionica, diretto da Rossita Fiorenza, classificatosi terzo tra gli istituti della provincia di Reggio Calabria e della stessa tipologia, cioè corso tradizionale, e primo per l'indirizzo Scienze Applicate, un traguardo di cui ha dato orgogliosamente notizia l'assessora comunale alla cultura Bruna Falcone, congratulata sei costudenti e docenti anche a nome dell'amministrazione. Una meta raggiunta, secondo la dirigente Fiorenza, grazie ad una proficua sinergia. Ritengo che tutto ciò è frutto della combinazione di tre elementi essenziali. Innanzitutto della visione progettuale, che tiene conto delle peculiarità del nostro territorio, ma soprattutto delle esigenze dello studente. In secondo luogo, la coesione e la collaborazione tra tutto il personale scolastico, docente e nonna. Il coinvolgimento fattivo e proiettivo degli studenti, delle famiglie e anche delle istituzioni locali. Il riconoscimento non viene comunque considerato un punto d'arrivo. Deve essere considerato un ulteriore sprone per migliorare sempre di più la qualità della nostra offerta formativa per il bene dei nostri ragazzi e anche dell'intera comunità. Grazie.